Ciao a tutti, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di un libro meraviglioso che ho finito di leggere proprio oggi, ovvero Helmet di Fiona Mosley, sperando che il suo nome e cognome si pronunciino così, un'autrice esordiente e una nuova uscita a Fazzi Editore è uscito ieri, 27 settembre, in Italia, al prezzo di 18 euro. Un libro che è stato nominato al Booker Prize ed è insolito per un esordiente essere già nominato a un premio così importante ed è un libro che mi ha stregato e affascinato dalla prima parola fino all'ultima. Io l'ho amato tantissimo, ma di cosa parla questo libro? Il libro è incentrato su una famiglia, una famiglia che secondo me è meravigliosa, formata da un padre, John, e sui due figli adolescenti. La più grande, Katie, è il più piccolo, anche se solo di un anno, Daniel. I tre vivono in un modo molto particolare. Helmet è proprio quella parte di terra dell'Inghilterra. Siamo nel 1900, penso durante gli anni più o meno della seconda guerra mondiale, in quanto non è ben specificato, ma da quel che si dice, si parla comunque di guerra, di soldati, si parla di una serie di cose che mi hanno fatto pensare comunque a un periodo di tempo che può andare dalla prima alla seconda guerra mondiale. Quindi, siamo in Inghilterra appunto durante questo periodo di tempo. Helmet è appunto quella parte di Inghilterra, dello Yorkshire, in cui, diciamo un po' la terra di nessuno, in cui ci sono boschi, in cui appunto c'è tantissimo, tantissimo di paesaggi bucolici. Anche la stessa copertina richiama un po' quello che sempre andiamo a vedere nel libro come descrizioni. Vivono appunto in questa piccola parte di terra, in questo boschetto, in cui hanno creato loro stessi una casa. È John, il padre, che ha creato per i suoi figli una casa, tant'è che spesso gli dice casa vostra. Lui non sente neanche quella di Mora come casa sua, sebbene abbia aiutato insieme ai figli a costruirla, sebbene lui l'abbia costruito a più dei figli, lui ha fatto tutto quello che ha fatto per costruire la casa per i suoi figli. Loro vivono quindi in una casetta, un po' in povertà, con due cani che hanno trovato, una casa molto particolare, vivono di quello che riescono ad avere dal bosco, che riescono a cacciare, quello che riescono ad avere anche dagli amici di John in paese, ma vivono un po' ai margini della società. Quindi l'autrice ci fa vedere una famiglia atipica, molto particolare, che ci mostra appunto due adolescenti che non vanno neanche a scuola, che hanno vissuto inizialmente una vita che può essere definita normale, ma che per volere del padre, per quello che è successo poi nella loro famiglia, cominciano a vivere appunto in questo boschetto, in questa casa costruita con le loro forze, le loro mani e ciò che trovavano, che pian piano è cresciuta con loro e che quindi vivono un po' solo fra loro stessi. A loro basta questo. John è un pugile di strada, si guadagna da vivere, comunque quei pochi soldi che si guadagna, li guadagna appunto andando a combattere per strada. È un uomone un po' brutto, però molto molto dolce e dagli occhi azzurri, come quelli di sua figlia, la figlia più grande appunto che, pur essendo la figlia femmina, è quella che assomiglia di più al padre, anche come modi di fare. Il più dolce invece è il più piccolo, il quindicenne o quattordicenne, Daniel, che invece ama starsene tranquillo, aiuta comunque in casa, ma ama cucinare, ama sistemare, ama anche studiare. I due adolescenti appunto andranno ogni tanto a studiare dalla vicina, che comunque abita abbastanza lontano, ma è per loro la loro vicina, Vivian, una signora abbastanza grande, che conosce da tanto tempo anche il padre, John, dei ragazzi, e lei andrà un po' a fare da maestra ai due ragazzi. Loro hanno vissuto appunto una vita molto particolare, perché inizialmente vivevano con la nonna e la madre, e il padre, il padre andava e veniva, e anche la madre andava e veniva, un po' vagabondi entrambi. Quando la nonna non c'è stata più, e soprattutto prima ancora che la nonna mancasse, quando ha detto lei stessa ai suoi nipoti, la mamma non tornerà più, e quando la nonna a sua volta non è potuta più stare con i nipoti, perché è venuta a mancare, John, dopo anche un evento molto particolare che accade a scuola, alla figlia più grande, decide di prendere con sé i suoi figli e costruire appunto questa casa. La cosa particolare di questo libro è il modo in cui l'autrice ci descrive questa vita, che comunque, ripeto, ai margini della società ci parla di povertà alla fine, di una casa molto semplice, molto naturale, di come questa famiglia alla fine viva, di quello che trova nel bosco, la frutta, la verdura che trova nel bosco, comunque quel poco che riescono ad avere dal paese, eppure stanno benissimo così. Si bastano a vicenda, è una famiglia secondo me meravigliosa. John, pur essendo un pugile forte, grande e grosso, ama tantissimo i suoi figli, e si vede tutto l'amore che ha nei suoi figli, per i suoi figli, in tutte le situazioni in cui si trovano. Pur essendo appunto magari un po' burbero, ha un suo modo particolare di dimostrare ai suoi figli quanto li voglia bene. Hanno anche un'amicizia meravigliosa i due fratelli, sebbene molto diversi tra di loro, appunto Katie è un po' più spericolata, Daniel invece è un po' più tranquillo, più introverso, e loro, ripeto, si bastano, non c'è bisogno di altro. Le cose si complicano quando arriva il signor Price, che è diciamo colui che ha effettivamente legalmente la proprietà del terreno dove hanno costruito la casa, che vuole quindi togliere loro quella dimora che con tanto amore e sudore hanno costruito, a meno che non succeda qualcosa. Il padre John quindi dovrà difendere ancora una volta casa sua, o comunque quella che è la casa che lui ha costruito per i suoi figli, casa dei suoi figli. E da qui diciamo comincia a esserci la vera e propria trama, che diventa un po' più complicata. Mentre all'inizio appunto abbiamo la descrizione della loro vita, dei paesaggi, della cucina, fa venire una fame questo libro per le meravigliose descrizioni di cosa mangiano in questa famiglia, e abbiamo tutta la descrizione di come vivono, di come si procurano appunto da mangiare, di come svolgono le loro attività, di come occupano il loro tempo, degli orari a cui magari il padre torna e tutto il resto, i paesaggi che cambiano con l'inverno, con l'autunno, l'estate, diciamo da un determinato momento appunto da quando arriva il signor Price, inizia la vera e propria trama coinvolgente che porterà degli eventi molto particolari, anche tragici, per quel che mi riguarda. Mi ha veramente stregato il libro, mi ha affascinato, io mi sono trovata a leggere un monologo sul perché le balene andassero a saltare fuori dall'acqua e ne sono rimasta affascinata, e sapete che io e le balene non è che andiamo tantissimo d'accordo, perché è una mia grande fobia, eppure rimanevo affascinata da qualsiasi cosa questo libro mi volesse, raccontare, che fosse una descrizione appunto del luogo in cui ci trovavamo, che fosse una descrizione di un comportamento umano o animale, io rimanevo completamente affascinata, e sono rimasta affascinata dalla trama nel momento in cui appunto diventa più complicata, perché si passa su un piano diverso, dall'aspetto bucolico si passa alle ingiustizie di chi ha il potere nei confronti di chi invece non lo ha, alle ingiustizie che subiscono spesso i lavoratori, ci sono dei temi anche molto attuali, appunto questo delle ingiustizie sul lavoro, sulle paghe non giuste, sullo sfruttamento, è una cosa particolare che mi ha colpito tantissimo, ci sono certe frasi del libro spettacolari, riguarda proprio la piccola, che è di non tanto piccola, perché essendo una donna, essendo una ragazzina che sta per diventare una donna, perché alla fine ha solo 15-16 anni, lei sente il peso di essere una donna in una società dove l'uomo ha sempre solo la meglio, quindi un tema anche questo molto attuale, che mi ha toccato tantissimo, la fine mi ha angosciato, in maniera positiva, nel senso io ho amato tutto di questo libro, quindi anche la fine mi è piaciuta, ma mi ha angosciato, mi è piaciuto dall'inizio alla fine, sono rimasta stregata, affascinata dallo stile lirico, poetico dell'autrice, che mi descrive tutto in maniera, ripeto poetica, e ho amato qualsiasi cosa, i temi affrontati in particolare, e il fatto che comunque il libro secondo me si divide in due parti, la prima parte in cui abbiamo semplicemente la vita di questa famiglia meravigliosa, e poi la vera e propria trama, che ci mostra tutti quegli altri temi molto attuali, il libro è di 270 pagine, e per farvi capire io ho letto 140 pagine, quindi la metà, una sera, dalle 8 a mezzanotte circa, perché non riuscivo a mettere giù il libro, e il giorno dopo, ovvero per me stamattina, l'ho terminato perché dovevo sapere, e me ne sono innamorata, quindi, una nuova uscita Fazzi che io ho amato, ve la straconsiglio, una trama che ti cattura, che all'inizio ti può anche far rilassare, e poi diventa invece più incalzante, di una storia, di una famiglia molto particolare, ma molto unita, e che mi ha aperto il cuore, se lo sono preso tutti loro, io li ho amati tutti, ho amato il padre, ho amato i suoi figli, e quindi io questa nuova uscita Fazzi, ve la straconsiglio, perché a me è piaciuta da morire, sono sicura che non può non piacere, perché è molto particolare, ma allo stesso tempo appunto molto affascinante, quindi ripeto, il libro è uscito ieri, 27 settembre appunto per Fazzi Editore, per qualche giorno ci sono ancora risconti, a 25% fino al 5 ottobre, se non ricordo male, quindi approfittatene anche per comprare questa meraviglia, oltre tutte le uscite meravigliose Fazzi, come ad esempio Il Sognatore, ricordiamocelo, però Helmet anche è spettacolare, io ringrazio la Fazzi per questa copia, sono stata molto molto onorata, di poterla leggere in anteprima, perché l'ho amato, lascio il link per acquistarlo qui sotto, nell'info box, il link Amazon, tutti i link dei miei social, se volete altre informazioni chiedete pure, nei commenti fatemi sapere se magari volete leggere, o l'avete già letto, o qualsiasi cosa riguardante il libro, e non solo, spero che questa recensione vi sia piaciuta, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!